ok benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno del che bello agli unnati solo vediamo un attimo solo troppo sole troppo ombra ok ciao a tutti vediamo come funziona e mi segno un po ciao alizio siamo uno orizzontale vediamo se si riesce ad aggiungere altri o no no mi so ah ma solo due provi in corso vediamo no domande le domande dei tuoi spettatori verranno visualizzate qui no così no nemmeno e no morimi ciao Emma allora casomai ciao Donato allora casomai facciamo in diciamo appuntate oppure magari si potrebbe fare che magari un tot di minuti c'è una discussione il io con te e un tot di minuti poi si passa per esempio a Emma del tuo ufficio oppure a Nema che ci sta seguendo che sta già ok ok allora facciamo così raga Emma Nema Emma e Nema è bello l'assimilazione oh ciao a tutti grazie mille siamo già i sette otto oh salutiamo un po' tutti mentre nel frattempo iniziamo vabbè inizio a dire diciamo ok grazie Emma allora iniziamo ad anticipare cosa andremo a parlare c'è Nema che ride allora di cosa andremo a parlare sicuramente della situazione attuale con te e Nema andremo a parlare anche del gioco tanto che avevo un po' messo aspetta avevo un po' preparato qualcosina cartel perché stavo facendo un po' come ti avevo detto come progetto lo spiegare i clan casomai con te e Nema vedo di parlare un po' dei clan così poi farò un video a parte su youtube a meno mi date delle delucidazioni mi prendo foglie e penna e mi segno un po' nel frattempo se potete invitare quella gente a vedere la diretta così se ci volete fare qualche domanda invitate non so come funziona invitate un po' le persone non so Maurizio i tuoi amici Nema e Emma i suoi amici ho già avuto il post così da fare arrivare più gente anche per far capire un po' meglio la situazione che stiamo vivendo tutt'oggi eh sì allora vuoi iniziare tu? per parlare di che cosa ci potremmo iniziare a parlare allora secondo me un punto di vista da studente e da giocatore iniziamo da quello sì da studente vabbè come tutti gli altri è un po' difficile perché eravamo abituati sempre ad andare a scuola e quindi fare le cose normalmente ora con queste nuove regole che ci stanno che ci stanno dando è un po' tutto difficile anche perché ma come funziona? come funziona? scusami io da ignorante ho finito la scuola serale niente praticamente bisogna scaricarle dal pc o comunque dal telefono da dove da un dispositivo mobile un'applicazione da questa applicazione praticamente fai delle conferenze con i professori e anche con gli altri studenti da là poi ci possono essere interrogazioni verifiche è praticamente una scuola virtuale ok e quindi diciamo che ha i suoi benefici perché relativamente ci tiene sempre in contatto e quindi non si perde il il continuo del dello studio però ci sono sempre degli svantaggi tipo tipo per esempio molte volte la lezione non si sente bene perché essendo comunque una lezione fatta sul computer ci sono delle interferenze la riconnessione internet può andare venire quindi molte volte ma il gruppo la lezione? si ah ok ma come la fate su twitch? no 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 la facciamo direttamente su 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 applicazioni che servono per per dei sì per applicazioni scolastiche ma non è vero il fatto dell'ammissione che siete tutti ammessi? allora per quanto riguarda i ragazzi di quinto sì praticamente sono tutti a quanto ho capito sono tutti ammessi all'esame finale però non ho capito che cioè penso che non saranno proprio tutti promossi al bisogna proprio fare una l'esame pratico l'esame vero e proprio della maturità sì usiamo zoom classi attive un po' un po' di tutto quello che praticamente la scuola mette in a disposizione ok ok qua ci do una viti vanga un po' mi manca vabbè un po' tutto il gioco le persone e soprattutto lo sai che ho notato i bambini io non vedo un bambino da da fine febbraio da fine febbraio no scusami no fine sì fine febbraio mi instiga è già passato più di un mese non escono proprio perché ogni tanto io esco vado a fare la spesa no relativamente neanch'io sto uscendo io è da un mese che tipo non esco ma è dovrebbe giusto anche così chi non ha la necessità di uscire non esca vabbè ovviamente sì soprattutto i bambini o comunque anche le persone che già sanno male un po' di loro che hanno qualche sintomo meglio che non uscite perché dopo tutto è una situazione grave sì 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 appunto veramente tanto grave inaspettate poi molti non ti non ti nego che all'inizio anch'io forse l'avevo preso un po' sottogamba cioè nel senso all'inizio perché ne parlamo nel compleanno mio dove siamo io Claudio Francesco Peppe e l'onora e parlavamo proprio di questo di una situazione dove diciamo la fantascienza era tipo noi con le mascherine quando mai perché ormai già stava in Cina però poi c'è caduto come meteorite ne ho parlato anche con Emma io avevo ecco dei ragazzi di altre fumetterie perché mi sto tendendo un po' con tutti e cercherò di fare piano piano qualche diretta pure con altre persone e per altri giochi io avevo il primo marzo avevo tre tornei perché noi ne facemmo uno di di Vanguard tu c'eri l'ultimo che ne abbiamo fatto l'ultimo no l'ultimo no noi ci eravamo andati a mangiare pure il panino no non c'è facemmo il torneo che poi non partecipare neanche io feci una partita alla fine alle 10 di sera con Andrea con oracolo esperto da cui ho perso tutte le partite che l'ho persa e ho finito il deck però non voglio sviare il discorso volevo dire avevo tre tornei la domenica primo marzo e li ho dovuti annullare tutti perché molti avevano un po' paura onestamente io da persona adulta finché ridiamo scherziamo ci sta però quando stiamo parlando di una una malattia di uno di un fattore grave e poi imprevedibile ho detto no raga io ho annullato tutti i tornei e fortunatamente ho avvisato subito perché dovevano gente da Fasano gente da Bari c'era la finale di Magic del campionato c'era una challenge di Pokemon e poi il torneo di Yugi è stata veramente una batosta brutta perché perché poi il fatto che in quel momento già si capiva che uno non dico che diventava così grave ma il fatto che colpiva sicuramente il piano del gioco il piano dell'aggregazione una cosa che come sai io ho sempre puntato tanto che il mio negozio si è basato molto sulle stanze ciao a tutti a coloro che sono partecipando grazie mille ragazzi se avete delle domande adesso sono con Maurizio poi ne parlerò con Nema e con Nema di Napoli data ufficio poi lei vi saprà indicare tutte le tutte le cose poi cercherò di caricare questo video anche su YouTube con i vari link ok e quindi a me mi dispiace veramente sul punto di aggregazione tantissimo non ballo commercialmente che ovviamente siamo tutti sulla stessa barca sperando che lo Stato ci dia una mano poi questo è una brutta situazione anche da da questo punto di vista eh sì sì veramente triste però l'importante è non mollare io con queste dirette ho fatto un video che fortunatamente ho preso tanto spazio chiesto a mio padre quando riattiva la fumetteria eh quando quando riattiva la fumetteria è bello com'è eh allora noi non possiamo decidere niente quando lo Stato cioè in questo caso Conte con il sindaco Bottaro che sarebbe il sindaco di Trani ci dà almeno l'avvio della parte commerciale io inizierò ad aprire la fumetteria con ovviamente tutte le precauzioni possibili noi sanificheremo prima il negozio prima di aprirlo al pubblico ho già parlato con tutti perciò tengo già una persona che mi aiuterà oltre a me a Francesco a mio padre a Joe o una persona che insieme andremo a sanificare tutto il negozio detto questo aprirò commercialmente poi se si potrà fare piano piano la parte del gioco ovviamente con le precauzioni non saremo più a dieci in una stanza o a sedici saremo la metà saremo quattro in una stanza quattro in un'altra e quattro in un'altra e poi grazie a Whatsapp grazie a Facebook a tutti i social cercheremo di dividere i giorni ovviamente non è una scelta mia dovremmo fare tutte le cose possibili per la nostra salute stiamo parlando della nostra salute e di chi abbiamo vicino perché nutre dire vabbè tanto verranno i bambini loro sono immuni che poi anche su questo ne potremo parlare ma nel fatto che loro sono immuni potranno contagiare un padre una madre un parente un amico e non è giusto non è giusto in tanti casi perciò cercheremo di io ho già preso più di 200 guanti per noi ho le mascherine io sono già pronto diciamo per aprire però finché non ci danno il via ovviamente penso alla nostra e alla salute di tutti infatti si ritorna un po' per volta no e questo è per il fatto della riapertura della mia fumetteria e penso un po' di tutte non prendete mai sotto gamba qualcosa che non si può prevenire ok e comunque ogni piccolo come posso dire ogni piccola novità ci può aiutare sì sì veramente e poi penso che io metterò l'obbligo sempre all'inizio lo metterò di mia spontanea volontà anche se lo stato dire di no delle mascherine e quanti negozio poi una volta scesi giù se si sa in pochi e si stanno tra di voi chi lo vuole casomai per la mascherina che può essere scomodo per parlare o per interagire lo si fa sempre con le cautele tanto se siete in quattro si spera che poi ognuno si gestisce a modo proprio però io credo che i guanti siano proprio essenziali e saranno molto importanti toccare qualsiasi cosa perciò portassi qualche ricambio io ho messo pure i fazzoletti quelli umidi per lavarsi le mani che si ha portati in mano ogni volta cercherò di visto che saranno pure pochi tavoli cercherò ogni volta prima di aprire sanificare tutto e ve lo dico anche a voi per qualsiasi cosa cercate di non solo per voi quello vi voglio ricordare eh sì sarà obbligato per tutti usarla siete infatti sì per usarla sì io dico che una volta entrati nella stanza da gioco e state in due di voi credo che come noi in questo momento se siamo di fronte diciamo potremmo stare pure senza mascherina credo poi se è obbligatorio in qualsiasi momento della vita è difficile perché sennò i ristoranti e i caffè e i bar saranno chiusi purtroppo purtroppo mi dispiace per tante cose però purtroppo è un qualcosa imprevedibile meglio questo che una guerra onessamente sinceramente credo di credo di sì non l'ho vissuta però ho vissuto altre specie di di guerre più piccole però nelle nostre città dove non si poteva portare nemmeno il casco per uscire sì dico ma gli asintomatici o chi ha qualche problema già è ovvio che lo deve capire sia per se stesso sia per gli altri là ci deve essere il buon senso per tutti Emma credo quello è un momento dove il buon senso deve prevalere che stavo dicendo ero perso eh vabbè niente magari a questo punto se parliamo anche un attimo dell'ambito del giocatore così poi si passa anche la parola a Nema e a Emma per vedere loro e vedere un po' loro cosa ne pensano personalmente in ambito di giocatore le direttive che sta prendendo Oriental Wave non mi sembrano molto adatte perché come abbiamo già accenato ieri Oriental Wave sta cercando di continuare a a far uscire non solo l'espansione che relativamente è una cosa a sé stante che ci può stare come non ci può stare decisione loro ok ma quando dovrebbe uscire non ho capito quando dovrebbe uscire scusami da quando ho capito dovrebbe uscire verso maggio verso inizio seconda settimana di maggio ciao Emma comunque trascendo l'espansione io più che altro mi focalizzerei anche sul nazionale che vogliono fare che personalmente ritengo sia una idea discutibile soprattutto per come la per la forma in cui lo vogliono fare come abbiamo detto come abbiamo detto prima per quanto riguarda la scuola si ritorna il 18 maggio a noi 18 o più là ritornando il 18 maggio a scuola da noi non credo che apriranno le scuole non credo che apriranno le scuole ma pur volendo che le aprono è come sta dicendo Emma è difficile definire il fatto di fare un nazionale un mese dopo la riapertura di tutto ma neanche un mese qualche settimana dopo ma io mi fermerei su questo più sul fatto che sia libero o no perché comunque un nazionale pensa che libero o no è perché mi punto sul fatto che sia libero perché essendo libero praticamente cosa succede che molte persone ci saranno più persone rispetto a un nazionale chiuso più persone comporta più rischi sì è per questo che mi punto sul fatto che il nazionale non dovrebbe essere libero ma tra virgolette libero o non libero è da spostare chiuse quando è una data giusta è inizio di settembre o almeno sì come dice giustamente Emma o almeno finché non passa la situazione mi esprimo meglio sì infatti perché poi la situazione come parlavamo pure è brutta il fatto della ricaduta sì è una cosa da tenere tanto no infatti non ci fossilizziamo sulla data ci fossilizziamo sul fatto di dire qualcosa che secondo me è improponibile capito non vorrei che in questo caso lo rientra un uevo per dire fa come dei politici apriamo tutto dopo due giorni chiudiamo tutto dopo due giorni apriamo tutto poi richiudiamo tutto io credo che si dovrebbe pensare con la propria testa e non mettere voci inutili in mezzo pensieri inutili dire come ha fatto Pokemon come ha fatto la Konami come ha fatto Magic dire la situazione non si può fare niente abbandonate i nazionali abbandonate questo tenetevi i punti stretti quelli nessuno ve li leverà chi è già qualificato si qualificherà in qualsiasi altro nazionale nel 2021 e 2022 sì ok Emma su questo ne parleremo meglio grazie io quello pensavo è nutre dire qualcosa è come se io oggi come poto rispondere io apro dopo Pasqua che lo dico a fare capito io una volta ho fatto un post il sabato sera alle 8 ho fatto un post domenica apro mi stavo vedendo ciao Darwin si interrompe la trasmissione ed esce Conte e dice guardate ecco ha fatto un'altra diciamo proroga e tutto dicendo una dichiarazione che le attività non si apriranno se non con le essenziali ho cancellato il post fatto l'8 e mezza alle 11 l'ho cancellato e chi mi ha contattato ha detto no ragazzi statevi a casa perciò una piccola cosa ho messo già un pensiero in più a qualcuno è brutto levare pure quel poco di pensiero perché sai quanti volevano venire solo a prendersi fumetti per leggere in tutto questo tempo o per parlare o per interagire un attimo che cavolo comunque che cosa fai quindi altro che apriamo le chiese io personalmente ho espresso la mia opinione ora come ha detto giustamente sentiamo anche l'opinione di Nema e la sua e vediamo un attimo niente io penso di aver detto tutto quello che serve per quanto mi riguarda se non ci ha se tu ti richiamo con dopo Nema per parlare un attimo di Vanga mo collego con Nema per finire questo discorso c'è stammettamente e lo so mancano a tutti gli amici e bravissi resta in secondo piano veramente secondo me il primo piano è la salute e il secondo piano e poi diventerà il il gioco con gli amici hai ragione veramente manca manca tutto ciao eccoci ciao Emma grazie per la pazienza ciao buonasera non ti preoccupare figurati abbiamo tempo purtroppo pure troppo veramente allora prima la presentazione allora discorso nazionale scusami ti faccio una presentazione prima presentazione stiamo collegati ok con Emma di Dato Ufficio di Napoli una bella cartolibrenia punto di gioco del napoletano dove chi mi ha seguito ci sono sono stato invitato che è questo Natale no estate si si era un po' dopo l'estate mi pare mi ricordo ottobre ottobre sì che faceva ancora caldissimo mamma mia buonissima pizza è un'ospitalità fantastica chi si trova vicino Napoli nel sud della campagna andatela a trovare appena si potranno partecipare i torni appena ci possiamo muovere grazie Fabio discorso che facevano loro ieri durante la diretta che è tutto da definire in effetti cioè la data è stata lasciata a giugno ma sicuramente non sarà quella cioè ovviamente se siamo ancora così e siamo ad aprile non siamo non possiamo uscire comunque e pensare di andare a fare un nazionale dove ci saranno tipo 300 e più persone ma non avranno neanche non avrebbero neanche il tempo di organizzarlo materialmente quindi la data è indicativa appunto serve soltanto come punto di riferimento ma sarà da definire sicuramente capito quindi non è niente è un un punto per dire noi ci siamo vogliamo comunque che la community abbia il suo nazionale e vedremo in corso d'opera come fare per definire tutto io così l'ho capito la cosa io onestamente non avrei proprio messo una data avrei puntato su altro avrei puntato come ha detto ieri più sul fatto che i punti non venivano persi ma anche la data di uscita di GBT02 è da definire Sandroni già lo disse nella volta scorsa nella live scorsa che ovviamente se i negozi saranno chiusi l'espansione slitterà perché rischi soltanto di saltare un launch event che per loro è importante quindi è per tutte le espansioni importante un launch event quindi slitterà anche la data di uscita di GBT02 sì è tutto da definire capito è in corso d'opera la cosa perché non si sa quando ne usciremo non si sa come ne usciremo e non si sa quando potremo fare aggregazione con la nostra community poi con le varie community soprattutto spostamenti e soprattutto spostamenti perché qua stiamo parlando di spostare tante persone da tutta l'Italia con treni e di cose che adesso è impensabile è ovvio è tutto un progetto secondo me secondo il mio parere secondo quello che io ho capito un progetto che loro comunque tengono a dire noi come organizzatori ci siamo e facciamo faremo il nostro meglio per farvi fare questo nazionale poi vedremo insomma non non saprei ci mancherebbe io te l'ho detto avrei solo evitato di mettere qualche pensiero in testa e creare discussioni inutili c'è chi si è lamentato per i 50 euro spesi qualificati sono discorsi da ragazzini che lasciano il tempo che trovano perché ovviamente nessuno poteva prevedere quello che è successo infatti purtroppo non è colpa di nessuno e nessuno avrebbe mai pensato a una cosa del genere è stato una cosa che ci ha travolto quindi non è di pesa da nessuno è inutile dare colpe inutili è inutile dare secondo me dare la speranza serve invece perché comunque i ragazzi sentono poi la presenza di un'organizzazione che vuole comunque a un progetto quello sì ho capito però non è un progetto che secondo me rimane in piedi è solo per quello è una cosa che sarà da definire nel tempo sicuramente io credo che si come tutti gli altri giochi poi ovviamente ma infatti gli altri giochi hanno stoppato non hanno detto proprio niente capito per dire poco male magic ha detto no non si fanno se ne palla tutto nel 2021 punto però stai parlando di comunque un'organizzazione che lì a livello mondiale ma io cioè la wizard parla di un discorso a livello mondiale generale non parla di un discorso nazionale cioè è un discorso più ampio quello che fa la wizard per magic quindi se prende una decisione la prende per tutto il mercato che è mondiale vabbè ma diciamo che ci torneranno le cellule che poi risponderanno a ciò capito tipo la cellula italiana risponderà per l'Italia o la per lo più la cellula europea risponde per l'Europa certo e lo sento per poco però secondo me adesso comunque a me manca la community mancano i ragazzi manca il gioco a chi lo dice manca tutto il negozio senza i tornei è vuoto praticamente è una cosa fantascientifica bruttissima la prima cosa che ho detto è il fatto che a me non vedo i bambini e mi mancano tantissimo tantissimo nonostante il casino che fanno le urla il fastidio sempre scherzando a noi a noi organizzatori manca proprio quello l'aggregazione del gioco e lo spirito della community per come noi la vediamo poi perché magari tutti la vedono come noi però è proprio quello di cui si sente la mancanza tanto a me è più quello che da una parte commerciale più il fatto di una chiacchierata con il cliente parlare di quello che è successo nell'ultimo fumetto o dell'uscita o della panini che ha aumentato i prezzi per dire che la vendita è del fumetto è proprio un rapporto per il momento non possiamo avere nessun tipo di vendita praticamente perché neanche per una vendita che sia di una semplice penna per dirti perché io in questi giorni comunque sono scesa al negozio perché comunque avendo prodotti informatici io posso aprire avrei anche potuto non chiudere l'ho fatto più per una questione di rispetto dei decreti e quant'altro avevo anche potuto non chiudere sono stata chiusa tre settimane poi dopodiché ho iniziato ad aprire di nuovo e quindi anche per una semplice vendita dove prima c'era la chiacchiera col cliente ora manca perché non puoi più stare lì e al momento io addirittura li sto servendo fuori al negozio senza neanche far rientrare nel negozio proprio per una questione di di salute pubblica di tutela proprio del cliente purtroppo abbiamo perso tutto i rapporti interpersonali gli abbracci i baci tutto e non possiamo fare più niente hanno deciso che non dobbiamo fare più niente cioè non è che hanno deciso l'hanno fatto per il nostro bene ovviamente è stato il virus che ha deciso per tutti però purtroppo è così speriamo che poi piano piano ciao ciao il team versus quelli di vari gigi nicola andrea e poi aveva scritto nicola aveva scritto ho fatto il mio primo torneo ed ero tutto casato per un sabato dopo però non sono potuto andare a giocare e lo so ma che peccato beh sì infatti un peccato io ho fatto giusto un tempo il Cerberus con i ragazzi e lo facemmo a gennaio sia io che Ska che saluto e siamo stati i primi due a organizzare il Cerberus per le qualificazioni a team poi ce n'è stato un altro mi pare a Roma e poi da lì non si è potuto credo fare più niente non ricordo se ne hanno fatto qualcun altro mi pare forse a Bologna non mi ricordo non credo comunque sì mancano proprio tutti questi bei eventi insomma eventi comunque che creavano quei momenti belli da condividere un po' con tutti perché vennero pure i ragazzi da Bari vennero un sacco di ragazzi da Roma molto molto simpatici tutti quanti quanto nel pokemon online allora parliamo un attimo dell'online che noi diciamo non non per qualcosa di concorrenza ma per più che l'online non è quello per cui noi l'online toglie quel momento di aggregazione no? quello è sì diventa tutto virtuale penso che di virtuali già ce ne siano tantissimi di giochi da poter fare quindi l'online non ti dà proprio niente neanche un piccolo contatto con chi con quello cui stai giocando insomma quindi ti toglie tutto quindi io personalmente non è che lo preferisco ovviamente il momento è quello che è quindi i ragazzi per rimanere sempre arrivati perché comunque l'online può essere per un test un allenamento però sono più carine poi le partite fatte per esempio su whatsapp con il compagno no? sì è una bella idea che tu ti metti con il telefonino gli fai vedere il campo lui ti fa vedere il suo campo e si gioca e si interagisce tipo come stiamo facendo noi adesso in questo momento eh non si può giocare facendo una partita con whatsapp con skype con qualsiasi tipo di di social uno preferisce insomma non è un problema però si interagisce proprio con chi ti sta di fronte poi con l'amico fai la battuta ed è più più simpatico no? come momento secondo me hai fatto varie partite su whatsapp con i ragazzi sì ma poi hai fatto tante iniziative molto simpatiche o portando a divertire sì sì vi invito a iscrivervi ai vari gruppi o pagine dato ufficio veramente ci sono ci sono tante iniziative abbiamo anche una di Vanguard no? CS Vanguard Napoli ma c'è pure Magic c'è anche Fort Will vabbè quella lì di CS Vanguard Napoli ovviamente è dedicata proprio poi c'è tornei di carte dato ufficio che invece è il gruppo del negozio dove ci sono dentro gli eventi per tutti i giochi e poi ci sono i vari gruppi dedicati però CF Vanguard Napoli pur è arrivato a diversi iscritti e lì poi si possono vedere post per la vendita delle carte si possono pubblicare anche i post per la vendita delle carte i vari eventi che si fanno a Napoli e provincia e niente lì si comunque si può conoscere una community diversa e interagire con la vostra per giocare l'ho insegnato a papà vedete quando sono disperato hai imparato un gioco nuovo anche io gioco con mia figlia io a domani non riesco perché ormai lui non lo ho fatto 15 anni fa penso che ce la faccia adesso però sono riuscito a fargli vedere tutto Deathroth e ti dico che all'inizio dopo un paio d'anni sono riuscito a fargli vedere le prime puntate poi è stato lui a chiamarmi a dire Fabio vediamoci le puntate di Deathroth vediamoci le puntate sì c'è comunque la nuova serie di puntate che sono uscite con i sottotitoli ciao Chris eh però non è niente è mio nipote purtroppo è in Olanda altrimenti anche lui avrebbe imparato a giocare a Vanguard ci sono le nuove puntate di Vanguard no? di Vanguard con i sottotitoli che pure sono partite la settimana scorsa ne hanno fatte tre mi sembra questa settimana ancora non lo eh? dove è? dove è? su Youtube sì su Youtube scrivere la nuova stagione ok con i sottotitoli in italiano ok ok sì 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 mi sono mi sembra che sono arrivati a tre episodi devono questa settimana non ho seguito ancora quando ci saranno i nuovi che hanno messo in programmazione però i primi tre già ci sono ma tu l'hai vista? eh l'ho iniziata a vedere poi qua ovviamente pur estando in casa c'è sempre da fare e non riesco mai arrivare alla fine perché chi ti chiama da una parte chi ti chiama dall'altra e quindi sì ho iniziato però a vederli con i sottotitoli sono carini da vedere ok ok io mi ero visto le prime dieci puntate della serie originale e poi ho messo e poi non le ho trovate più perché mi sa che eh perché le hanno tolte le hanno tolte perché spiegavano che hanno perso comunque sono ripresi i diritti i diritti praticamente che ci sono di immagini credo e le hanno dovute togliere però adesso con vangaggia me lo so ma che c'è? oh non lo voglio che bello eh no questo è mio questo l'ho giocato in tutti i mazzi oracolo eh io non ce li ho più solo perché ho dovuto fare un favore perché tu te li sei tolti l'ha detto Maurizio eh no un ragazzo un ragazzino vuole fare oracolo e mi ha stressato e ne ho solo uno è bello che io e te abbiamo le due figure diverse i due artwork diversi esatto il mio è il primo è il tuo è la seconda edizione mi sembra sì è quella dell'ex collection esatto io ho tutto dopo ti aggiungo Gigi o chi sei guarda questo Susanna eh c'è tutto nuovo mazzo perché io io gioco oracolo a vita sì 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 pure io ho scoperto ho scoperto che Tom poi fa chiudere il gioco perché praticamente tutti quanti siccome io non è che sono bravissima i ragazzi poi mi consigliano no? sulle varie tattiche strategie da fare e quindi fanno ogni volta tu gira critico metti tutto su Tom tu già hai tutto a Tom Tom chiude Tom e ho scoperto che così chiude il mazzo con Tom io ho perso il primo torneo a Bari dove il mio avversario aveva obbligato il G3 e vinse per il doppio critico su Tom e io con il G0 che avevo solo il G0 in mano bellissimo quando poi non possono pararsi è super è cattivo Tom e OP sì è vero Marco Tom e OP forte 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 Marco è un ragazzo che viene al negozio ciao Marco io già avevo fatto l'ultimo video sull'oracolo proprio che mi vuole uccidere Maurizio per il titolo che avevo messo con il Tom Tom ci aiuta ci fa trovare la strada per vincere bellissimo e poi guarda qua l'ultimo l'ultimo mio acquisto pazzo oh bello che monta Gear Chronicle nessuno questa è stata una mia una mia diciamo cosa che avrei voluto fare con i ragazzi un premio esatto un evento avrei voluto creare un evento e quindi l'ho preso proprio per per loro per premio RSGR questa è quella lì che ha anche mia figlia molto bella sì ragazzo è ovvio qua siamo tutti ragazzi ovvio tutti ragazzini e poi con loro c'era sempre una bella energia infatti sì infatti manca veramente tanto questa energia che i ragazzi ci davano tranne un'energia positiva e poi stavamo recuperando un sacco di persone stavamo iniziando veramente a me parlo dalla parte mia che con alte e bassi con vari disguiti varie cose stavamo no ne parliamo sì stavamo lo sai pure tu purtroppo certe persone rosicano e vogliono dare fastidio e noi dopo tutto siamo riusciti a creare veramente una community su quattro giochi eh differenza di siamo tua che sei di di Napoli eh inizia tutta da lì io purtroppo è stato di casetta ho dovuto ricominciare già tutta da capo senza tante conoscenze è stato veramente duro veramente duro perché poi chi non lo sai comunque un po' di fiducia ci sta ci deve sempre stare è meno male eh però molti ne approfittano però alla fine noi usciremo un tempo più forti si spera ciao Federico quello che non ci si dice in un detto che quello che non ci uccide ci fortifica vero e dice Joker ci rende anche più strano esatto strani già lo siamo più strani sarebbe un po' difficile però quello che Emma eh volevi aggiungere altro eh no penso di aver detto tutto poi magari se durante la chiacchierata con Emma mi viene in mente qualcos'altro te lo scrivo e ci possiamo anche risentire dopo grazie oh grazie mille veramente per la disponibilità so che non si è abituata a queste dirette foto no una bellissima parte grazie per l'amicizia ti fa tutto veramente grazie poi ci ritroveremo o a Trani nel caso ci sentiamo dopo va bene ti aspetto tanti cuori ciao ciao buona serata ok allora raga voi se volete facci qualche domanda siamo tanti in diretta cercheremo di rispondere a tutti vediamo adesso chi si collega chi c'è chi c'è chi c'è ok vediamo chi entra prima eccoci qua ciao carissimo ciao tutto bene sì 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 dai a parte il tempo che è una cosa fantastica noi siamo qua dentro ma va bene eh sì infatti ho dovuto chiudere le tappanelle che avevo il sole proprio che mi toccava le spalle che ci possiamo fare eh lo so purtroppo però recupereremo pure questo bel tempo speriamo ok presentati prima anche da parte mia che ti conosco solo diciamo tramite messaggi compravendita e compravendita sì quante cose ho comprato comunque sono nemania mi chiamano nema per il abbrevazione sono un giocatore del mercato un giocatore medio diciamo neanche forte neanche deboli un giocatore medio è tutto lì si gioca soprattutto per divertirsi e poi si va a puntare ovviamente alla vittoria sì sì infatti infatti di dove sei? sono Vicentino ok allora ti faccio vedere i miei gatti infatti no no che cosa giochi? l'unica cosa che posso giocare è che giocherò da quando cioè da quando è uscito fino alla fine di 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 tempi che cosa è Narukami o Kagero scusami Narukami Narukami ok ok Kagero è una brutta copia di Narukami da quello che so è diciamo l'evoluzione sì sì no era per per fare una una battuta sì sì comunque è più stabile è più stabile il Kagero è molto più forte però va bene non è vero non è vero perché Narukami ha portato un sacco di risultati positivi sì sì però in futuro in futuro si vedrà che Narukami ha i suoi alti e bassi purtroppo vabbè pure Kagero con quasi tutti i clan comunque abbiamo visto nel nazionale italiano come vari clan sottovalutati invece hanno vinto sì sì quella volta che c'era Spike in top 8 top 16 che non mi ricordo top 8 top 8 quella con la combo prima che non c'era ancora in top 5 figo dei mondi allora allora metto 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 eh sì allora stavo parlando io stavo facendo un video stavo iniziando a progettare un video dove voglio parlare un po' di tutti i clan per chi voleva iniziare a giocare ah sì così avere diciamo diciamo una scelta sulle variabilità e sul modo di gioco ma in primis secondo me cioè un giocatore nuovo dovrebbe basarsi sulla sull'immagine della carta in sé poi casomai imparare le strategie come contrastare come giocare proprio mazzo poi si vedrà cioè un primo impatto è quello visivo proprio eh non dire a me che io ho iniziato con Grande Natura quando Grande Natura aveva due carte tra cui una è il Panda il Panda Giramondo eh è la buona prima vista eh sì sono bellissimi Grande Natura è perché è uscito nel BT7 è uscito poi il primo deck Grande Natura sì appunto e purtroppo anche questo l'ho l'ho venduto la mia carta preferita sì ma in realtà in realtà appena esce cioè all'epoca fu il BT2 eh GBT2 che uscì Grande Natura speriamo che sarà anche così da noi perché veramente è un mazzo un mazzo simpatico da giocare sarà veramente io l'ho chiesto io l'ho chiesto nella live di Vanguard nessuno mi ha voluto rispondere non so se poi mi hanno risposto l'unica cosa certa che è è che uscirà Aquaforce perché dopo uscire trial deck quindi per forza di cose lo dovevano buttare fuori e sarà un mazzo fortissimo ma proprio forte forte e poi si vedrà il resto per certo siamo sicuri che uscirà anche tutte le carte rimanenti dell'FC della Fighter Collection quelle che non hanno fatto uscire adesso ok e poi basta poi non si sa niente vabbè le promo due che ci hanno fatto vedere di Tsukuyomi e di no non sono spoiler sono delle delle mie mezze idee su dei pensieri su come potrebbero evolvere il gioco che potrebbero che potrebbero uscire quindi non ho la certezza per me posso buttare anche Chaos Crisis in GBT2 così moriamo tutti ma che cosa è è tipo un'evoluzione di Chaos Breaker Dragon è tipo una cosa veramente sgrave ma quella che blocca da mano si si vogliamo dire a tutti che Gorguit non deve uscire perfino a GBT2 anche Gorguit ieri ci ha giocato su area perché è l'unico modo per giocarci contro Gorguit è veramente un mazzo simpatico io non sono un Paladin player però se devo scegliere tra tre Paladin scelgo Gold per Gorguit perché Gorguit è bellissimo e poi anche delle strategie simpatiche ok su cosa ti basa il il classico parla di incalare le unità dal mazzo potenziarsi poi anche Gorguit può fare una cosa simpatica nel senso ti potrebbe chiamare anche la PG dal mazzo tipo quella cosa che non si poteva fare con per esempio Regalia o pure con Liberatore Legion che tipo non potevi usare la PG dalla mano Burguit te la fa chiamare dal mazzo e ti fa anche in difesa esatto e infatti in difesa si attiva con Generation Break 2 attivi quell'effetto che è veramente simpatico come effetto alla faccia ecco perché ci piace a Maurizio ma come le vedi queste SGR sono bellissime cioè io quando ho visto delle promo che erano full art ho detto tanto di cappella perché veramente sono fantastiche e poi con le SGR full art che tipo anche i Neng non l'hanno vista subito anche da loro è arrivata più avanti noi abbiamo anticipato tutto quanto vabbè ovviamente stando indietro potremmo si può migliorare ciò che è stato il passato infatti io devo ammettere a me la colpa che all'inizio ero veramente scettico sulle decisioni dell'Oriental Wave perché non mi piacevano le loro decisioni per vari motivi poi con l'uscita di GBT1 ho detto veramente stanno facendo un ottimo lavoro ringrazio a tutti perché veramente sono soddisfatto delle decisioni perché uno ci hanno fatto giocare molti più molti più clan ci hanno fatto giocare molti più clan aspetta 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 eccolo qua no è qua ma ce l'hai come il mio? si 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 ah no è tu SP si eh no non ce l'ho SP sono una me l'ha regalato un bambino che gran cuore che ha è perché gli avevo fatto un deck lui aveva questa carta in più io l'ho detto che valeva ho fatto non mi interessa la voglio regalare ho fatto tu mi hai fatto un deck forte mi hai sempre aiutato a fare il deck ho fatto grazie io comunque vorrei SP di Vankyshire se qualcuno ce l'ha SP Vankyshire è pregato di scrivermi perché ho quattro copie triple R ma ISP quindi no purtroppo non mi è mai uscito se no te lo dicevo no io ti ma non mi è uscito niente in Arugami SP eh non mi è uscito no sto vedendo no mi è uscito un sacco di oracolo e Gear Chronicle Gear anche Gear adesso me lo sono comprato per per il gusto di averlo perché secondo me adesso in GBT1 il mazzo più forte è Royal Paladin Abyss e Royal Paladin Royal Paladin è una cosa lo sto giocando su area è veramente è fortissimo ma veramente fortissimo sto testando la versione con Altmile e Think Saver sì è fortissimo gioco 4 stand e 8 crit senza pescate perché tanto non ti servono pescate quel mazzo se riesce a rossarti turn 1 turn 2 è chiuso poi o ti cala Altmile e ti picchi a grosso oppure ti va di Think Saver e ti chiude vediamo se lo recupero eccolo qua è fortissimo quella carta lì spettacolo di carta veramente a parte se lo giro e gli ineschi ti dà un po' fastidio però per il resto è forte ma poi a me oracolo veramente mi sta piacendo tantissimo ne stavo parlando prima pure con Emma oracolo allora non ero abituato a giocare le uniche partite che ho perso per finire il deck oracolo attomi silenzioso non gli serve nient'altro sì poi pesca perciò lo va a cercare sempre esce sempre per forza obbligatorio guardi 2 guardi 4 guardi 2 guardi 4 guardi sempre in mano io mi ricordo tipo Alnazio di quest'anno che giocavo Link Joker montato malissimo perché veramente dopo ci ho ripensato e ho detto perché non ci ho pensato prima ma va bene che mi è capitata una partita contro un ragazzo che giocava oracola appunto e io avevo tipo una decina di carte in mano però erano tutti G0 no e lui aveva due Tommy in campo ho detto no ti prego per fortuna sono riuscito a gestirmelo però anche Moschiettieri madonna Moschiettieri aspettiamo Silvia vogliamo Silvia sì forte sì perché ti fa rassare subito è carino Moschiettieri adesso con le nuove stride si può fare tanto ti riempi il campo un attimo con Cecilia poi te lo gestisci anche con il drago come si chiama quello G4 aspetta vediamo che ti fa potenziare tutte le unità con qualche stride è tipo Sefirot il mio draghetto preferito di Neonettere ci sono tanti mazzi giocabili adesso è una cosa veramente fantastica peccato per il problema che abbiamo perché se no il metagame sarebbe veramente veramente fantastico il metagame di GBT1 ETA è veramente fantastico è vario ed è bellissimo eccolo qua ecco è lì ci giocherà per il prossimo un anetto ti piace il mio portatec io conosco certa gente che come porta mazzi ha Eevee di Pikachu cioè Eevee dei Pokemon ah ok bellissimo questo è il deck che purtroppo per quello che è successo poi GBT1 è stato utilizzato proprio poco eh sì io l'ho giocato un paio di settimane io l'ho giocato due settimane perché tipo mi sono laureato a febbraio ho fatto due partite complimenti quindi laurea forse due settimane e poi essendo del Veneto Conte ci ha chiuso subito e poi basta sì 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 lo so ho seguito al nord è stato molto più pesante nel bene o nel male purtroppo è successo qualche successo come abbiamo parlato con Emma sì basta resistere un attimo e tornerà tutto come prima sì e spero che questo ci potrà migliorare e non essere sempre cattivi con la natura con i nostri simili io nel frattempo sto facendo vedere un po' di carte così se qualcuno vuole fare qualche domanda anche Richard è una carta forte che si potrebbe usare con in Royal Pardin si può usare con Sanctory 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 come si chiama Sanctory qualcosa il santuario esatto il grado del santuario esatto perché lui lui richiama proprio il G1 appunto il Richard è proprio la carta adatta la combo sì ti fa plus sia in campo che in mano mi dice tempo rimanente 20 secondi forse più di tanto la diretta non si può fare nemmo perciò ok casomai perché mi dice 9 8 sembra che è di guerriero vediamo che succede nel frattempo saluto a tutti quanti ciao a tutti volevo a meno finire questa diretta e ringraziando a tutti i partecipanti sia a coloro che hanno partecipato in diretta sia a coloro che ci hanno visualizzato ci hanno visto sto salutando un po' a tutti e ringraziare a tutti veramente grazie a Emma di Dato Ufficio grazie a Nema giocatore di Vicenza grazie a Maurizio il grande Maurizio l'inestimabile infecondabile Maurizio come direbbe l'amico Paolo Bonolis grazie a tutti fatemi sapere se volete qualche altra diretta se qualcuno vuole partecipare veramente un abbraccio circolare a tutti vi voglio bene grazie per il supporto alla prossima dal vostro nonno della rete tutto linea al al vanguard bella di Dato U Grazie. 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 Grazie.